Oggi 8 luglio 2013, ieri non c'era nulla più, i cassonetti non li hanno vuotati da venerdì. I cassonetti sono tutti sgangherati. Buongiorno, quella lì la raccoglie? Vediamo, mi denunci, lei non la raccoglie? Mi denunci, io adesso la pubblico con le sue dichiarazioni che non la raccoglie, va bene? Ce n'abbiamo un altro qui, eccoli qua. Ecco come lasciano dopo che hanno raccolto. Falso allarme, non raccoglie nulla. Peggio di prima. Ora è 11.25. Scusate, posso dire una cosa? Se li ributtate lì, si riempiono subito, se li portate via invece restano vuoti per qualche giorno, o no? Però cosa, scusi eh? Ero capace anch'io a metterle lì dentro. Perché non ce l'ho messo. Ah, perché non ce l'ho messo io. Adesso quello che resta fuori lo buttano nei cassoni così tra dieci minuti sono di nuovo pieni come stamane. Se ci dicono ci sono i bidoni vuoti che sono già passati i camion, buttate dentro la roba, dentro i bidoni, per quello non... Eh ma è una bella storia, così i bidoni non saranno mai vuoti. Scusi, mi ci faccia un po' parlare. Aspetta lì eh. Pronto? Eh, mi scusi, lo smaltimento non lo fate. Perché smaltirlo nei cassonetti appena vuotati non mi sembra una soluzione. Ma ripassate a vuotare i cassonetti, ma scusi eh, ma qui è una storia che adesso la gente trova i cassonetti pieni e continua a buttarla per terra. Ma lei, lei gira un po' per il territorio, lo vede il porcaio che c'è in giro? Ma lei di che ditta hai, mi scusi? Lei è di Aga. Prima li vuotate, poi ve li riempite, poi ve li rivuotate e la gente non trova mai lo spazio dove buttarla. Sì che è un grosso problema, perché siccome ci mettete tanto poi a vuotarli, con quel sistema che usate voi si riempiono velocissimamente. E mi dica un po', dal giovedì al lunedì quante volte passate qui? Ecco, e allora già qui l'errore, perché è da venerdì che non raccogliete. Sì, però il cittadino diciamo le sue tasse continua a pagarle, anche quando c'è il camion rotto mi sbaglio. Quindi lei mi sta dicendo che venerdì, sabato e domenica lavorate sempre. Sì. Bene. Va bene, vedremo prossima domenica. Grazie, arrivederci. Ma quello chi l'ha messo adesso? È cera. Quello hanno detto che non lo raccolgono perché è sotto il cassone. Questo anche, è rimasto sotto il cassone e loro non lo tolgono. Grazie. Grazie.